Ciao a tutti, oggi parliamo di Revenge, un film in uscita il 6 settembre che ho avuto la possibilità di vedere con qualche giorno d'anticipo. Di cosa parlerà mai un film con un titolo del genere? Secondo voi? Jane è una ragazza bella e seducente e viene invitata dal suo ricco amante in una villa nel deserto per un weekend di passione. Qui i due vengono raggiunti dai due soci dell'uomo e la ragazza diventa l'oggetto del loro desiderio e subisce uno stupro. Ma non è tutto, perché gli uomini vogliono disfarsi di lei, sostanzialmente la vogliono morta. Parte così una feroce caccia all'uomo, ma come il titolo lascia intuire, Jane reagisce e la preda diventa cacciatore. Il rape per Revenge Movie è un sottogenere che spopolava negli anni 70 che conta decine e decine di pellicole. Film in cui la protagonista viene abusata o torturata e lasciata a morire, ma sopravvive in qualche modo e uccide uno dopo l'altro tutti i suoi aguzzini per vendicarsi. La particolarità di Revenge sta nel fatto che è stato scritto e diretto da una donna, Coralie Farge. E non è un dettaglio, certe scene colpiscono molto di più se a girarle non è stato un uomo. Le urla di gente entrano nella testa come la scena dello stupro in Strange Days di Catherine Beagle, o non a caso un'altra scena feroce in cui la vittima è una donna e la regista è un'altra donna. Qualcuno potrebbe erroneamente pensare che una pellicola di questo tipo in mano a una donna non venga fuori cruda e violenta come il sottogenere impone. Sbagliato, Revenge è un film che gronda letteralmente sangue, assolutamente viscerale e che non risparmia alcun cazzotto nella pancia o coltellata in faccia alla dove serve. La protagonista è un'attrice italiana, Matilda Lutz, che è nata a Milano anche se si è trasferita negli Stati Uniti ed è apparsa in film di Veronesi, di Muccino, in The Ring 3 e nella serie TV dei Medici. Confesso che visto il suo background appena un ruolo del genere nutrivo qualche timore, e invece la Lutz è davvero brava perché riesce a interpretare due personaggi in uno, bambolina sexy all'inizio e guerriera insanguinata subito dopo. Si presenta a inizio film come una perfetta lolita di Kubrick, Jen, col tanto di occhiali e di lecca-lecca, e dopo aver vissuto il suo momento in stile della sposa di Kill Bill ne emerge viva Vegeta e incazzatissima come un Rumble femminile. Non è un'eroina d'azione ma diventa una nuova e determinata Lara Croft semplicemente perché non si arrende. scalza, ferita e praticamente in mutande ma aggrappatissima alla vita. Non mancano ovviamente le esagerazioni e i cliché tipici del genere, compreso un certo McCuffin che dà una grossa mano a Jen a cavarsi di impiccio, ma fa parte del gioco, perché i Raper Revenge Movie sono degli exploitation e questo è un exploitation moderno. Coralie Farge che qui al suo primo lungometraggio, dopo una serie di corti, dimostra di aver studiato molto bene gli interpreti odierni del genere come Tarantino, Rodriguez o Mike. Revenge è un film confezionato come si deve in tanti aspetti, nonostante qualche piccolo errore. Ha dei colori pop, vividi, saturi, che non ti aspetteresti mai vista l'ambientazione. Il deserto marocchino che qui rappresenta un qualche deserto imprecisato che potrebbe trovarsi in qualsiasi continente. Un deserto che finisce per rappresentare nel film quasi una sorta di personaggio a sé, come in Mad Max Fury Road. Eppure sono scelte visive molto azzeccate che tra l'altro si sposano benissimo con i momenti in cui la colonna sonora si avventura nell'elettronico. Ma anche dal punto di vista più prettamente tecnico c'è del bel cinema, come dimostra un lunghissimo piano sequenza, poco prima del finale, davvero notevole. Insomma è un film avvincente e stiloso, una sorta di punto di incontro tra l'exploitation movie e il punto di vista femminile per quanto possa suonare strano. È un film che ti tiene sul filo Revenge, anche se ovviamente sai come andrà a finire. Basta non essere deboli di stomaco perché, come dicevo, di sangue ne scorri a fiumi. Una violenza irreale al punto da essere quasi comica, come ha dichiarato la regista. Ha studiato Tarantino. In mano ad altri, molto probabilmente questa trama sarebbe sfociata nell'ennesimo rape e Revenge uguale a tutti i precedenti. Invece Coralie Farge ha saputo giocare con gli stereotipi del genere, dando loro una mano di vernice fresca e in alcuni punti fregandosene di quel realismo che tanto sembra ossessionare alcuni spettatori. E in tutto questo è riuscita a infilare un messaggio molto forte in un film d'azione truculento. Un messaggio in difesa delle donne non solo perché la protagonista è vittima di uno stupro e di un reiterato tentativo di femminicidio. Il messaggio che Revenge viene ribadito più volte, anche mediante l'utilizzo di vari simboli come una certa soluzione estetica volutamente esagerata, riguarda innanzitutto la libertà di essere donne. Questa è la frase che dice, a un certo punto del film, uno dei tre uomini il più importante a Jen. Il modo in cui viene presentata Jen all'inizio e il suo comportamento veicolano un concetto molto semplice. Essere sexy e provocanti non comporta alcun consenso, dove il consenso non c'è. Sì, dovrebbe essere una cosa scontata, ma basta leggere quello che scrivono sui social uomini e purtroppo anche donne quando avvengono delle violenze vere, tutti quei se l'è cercata per questo o per quell'altro motivo, per capire che no, scontata non lo è affatto.